Ciao Tommaso, ci siamo ritrovati qua questa sera con tanti complimenti per la doppietta. Una bellissima partita, dopo un primo periodo ho giocato alla pari, un secondo periodo è a vostro favore, siamo a mani basse. Qual è stato il momento in cui hai girato la partita? Il momento secondo me in cui hai girato la partita è stato quando siamo riusciti a superare il 5 contro 3. Il 5 contro 3 era fondamentale, loro sarebbero riusciti per una partita, ha chiesto, ha fatto le superparate, c'è un'altra partita. Non è difficile, quindi diciamo il 5 contro 3. Una vittoria così importante, può dare uno slancio per affrontare le prossime partite? Sicuramente però dobbiamo rimanere con il focus partita per partita, per partita abbiamo un seguito campionato che può essere a favore del primo, a favore del utile. Quindi ogni partita a sé, dobbiamo veramente concentrarci, non pensare al successo di questa sera, ma anche sì arrivare alla partita 0-0 e andare avanti. Un'altra domanda è quanto può essere, parlando anche del vostro natore, un uomo, una figura come la notte, ne è stato come questa sera, come mi diceva che non siamo riusciti, sono la prima di voi con voi, quanto può essere importante per il consiglio di vostro natore? Allora, chiaramente adesso lui ha fatto la sua prima partita questa sera, penso che a noi abbiamo fatto il primo di voi basso, in modo di una prima di domanda, che secondo me ha fatto un gol e un asset, questo è assolutamente fondamentale. Grazie a tutti, grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti, ciao!